Negli anni 90 ci fu un'esplosione di nuove scuderie che andava da Fellari fino alle scuderie le più improbabili. Una delle storie più pazze della Formula 1. Ma vuoi che ti racconti di quella volta che Andrea ha sfondato la porta dell'ufficio di Bernie Eccleston? Che ti faccio dire? Con Andrea ho calcato tutto il palcoscenico del diritto. È stato un pazzo. Va bene andare a 300 all'ora, va bene andare contro mano, ma qualche volta bisogna stabilizzare anche i freni. Lo avevano fermato i vigili per strada perché stava andando da dove aveva Tima al paese con la Formula 1. E quelli gli ha detto, beh, e lui gli ha guardati, fa, sono sassetti, ho capito, ma non ci puoi andare per strada con la macchina. E ho capito, ma io sono sassetti. Correre in Formula 1 è difficile. E c'è da aggiungere che in un panorama oramai monotono per quanto riguarda le prime file dello schieramento, correre e vincere in Formula 1 è molto difficile. Spicca invece in questo panorama il ventesimo posto in griglia conquistato dal brasiliano Roberto Moreno sulla esordiente Andrea Moda. Correre in Formula 1 sull'Andrea Moda è un miracolo e l'ho fatto solo io. Grazie per la visione! Grazie a tutti